benvenuti in un nuovo video di quadricottero news l'argomento di oggi riguarda mi 3 pro e altri droni per la marcatura di classe del regolamento europeo in merito ad una informativa diffusa ieri da easa che in qualche modo aveva anticipato quattro mesi fa in questo video dove avevo reso noto che easa aveva comunicato che esistevano già dei droni con marcatura c0 c1 c2 c3 e c6 tuttavia non aveva comunicato i modelli e in tanti ci eravamo chiesti se ad esempio il mini 3 pro avesse ricevuto la marcatura c0 del regolamento europeo inoltre in quella comunicazione easa diceva che se il drone pesava meno di 250 grammi avrebbe potuto continuare ad essere utilizzato con le regole a1 anche nel 2024 senza marcatura di classe senza citare la massa massima al decollo ovvero l'Mtom lasciando pensare che il problema fosse in via di risoluzione sto parlando dell'articolo 20 del regolamento 947 2019 che prevede appunto l'Mtom come fattore discriminante per quanto riguarda i droni senza marcatura la novità è che ieri easa ha pubblicato una tabella dove mostra i droni che hanno ricevuto la marcatura di classe del regolamento europeo ed è questa leggiamola assieme alla prima riga leggiamo che la marcatura c0 l'ha ricevuta il drone dji mini 2se per quanto riguarda i modelli mt25d e mt25dce ma il mini 2se ha già la dichiarazione mtom quindi marcatura o no per lui la strada del 2024 è tutta in discesa perché anche se non avesse la marcatura c0 potrebbe continuare a volare esattamente come oggi proprio per il fatto che ha la dichiarazione sull'Mtom inferiore ai 250 grammi anzi a dirla tutta il fatto che il dji mini 2se non abbia la marcatura c0 è un vantaggio e vedremo tra poco perché ma andiamo avanti alla riga successiva vediamo che la marcatura c0 l'ha ricevuta anche il dji mini 3 il dji mini 3 pro e basta non ci sono altre marche concorrenti sulla fascia dei droni sotto i 250 grammi che hanno ricevuto la marcatura di classe del regolamento europeo secondo questa tabella questa tabella però non è aggiornatissima perché vediamo che manca ad esempio il recente air 3 che ha la marcatura c1 ma che qua non è elencato qua sono elencati i droni c1 dji mavic 3 v2 che ha ricevuto la marcatura retroattiva quindi mavic 3 è diventato il v2 facendo la procedura di marcatura retroattiva che ho fatto vedere in un altro video anche qua nel canale poi abbiamo la marcatura c1 per il mavic 3 cine e c1 per il mavic 3 classic tutti argomenti che ho trattato ampiamente nel canale ci sono tanti video che parlano questi argomenti poi vediamo che droni c2 sono quello della sensefly ebx che è un drone ad alla fissa vediamo che c'è il matrice 30 rtk eu sempre c2 il matrice 30 thermal rtk eu sempre per il c2 e poi abbiamo il mavic 3 enterprise eu mavic 3 thermal eu mavic 3 multispettrale sempre eu che hanno ricevuto il c2 in questo elenco manca il mavic 3 pro che ha ricevuto anche lui il c2 però evidentemente questa tabella non è proprio aggiornatissima come ho detto prima poi vediamo che per gli ultimi tre droni ci sono c'è un errore vengono indicati come c0 ma evidentemente non possono essere c0 c'è l'r10 il trinity f90 plus che è un drone ad alla fissa vtol quindi decollo e atterraggio verticale che pesa intorno ai 5 kg qua viene indicato come c0 però pesando intorno ai 5 kg non può essere c0 non può nemmeno essere c2 perché c2 si ferma a 4 kg evidentemente è un c3 così come c3 è in matrice 350 rtk mentre l'u x 11 della delair è un c6 ne ho anche parlato in un articolo su quadricottero news c6 vuol dire che può essere impiegato per gli scenari standard europei 0.2 bv loss si tratta di un drone ad alla fissa a questo punto molti possessori del mini 3 mini 3 pro esulteranno pensando che il proprio drone che hanno tra le mani ha la marcatura c0 del regolamento europeo è veramente così verifichiamo subito il mini 3 pro che ha ricevuto la marcatura c0 è siglato mt3 m3 vdb andiamo a vedere la sigla del mini 3 pro che è stato venduto fino ad oggi andiamo a leggere bene e vediamo che è siglato mt3 m3 vd manca la lettera b come bologna che cosa vuol dire vuol dire che l'esemplare che abbiamo visto non ha la marcatura c0 per ottenere la marcatura c0 dji deve avviare la marcatura retrattiva per gli esemplari senza la b finale la stessa cosa dovrà fare per gli esemplari già venduti del mavic 3 enterprise mavic 3 thermal e mavic 3 multispettrale perché come vediamo il modello che ha ottenuto la marcatura c2 del regolamento europeo è l m3 e trattino eu quelli consegnati fino a poco tempo fa non hanno la dicitura eu finale quindi anche in questo caso chi è in possesso di un mavic 3 enterprise dovrà attendere la procedura di marcatura c2 retroattiva da parte di dji tornando al mini 3 pro è evidente che non ha la marcatura c0 perché non ha il software che limita l'altezza 120 metri rispetto al punto di decollo a dire il vero con queste novità abbiamo la conferma che un mesetto fa la dji ha fatto effettivamente le prove generali di retromarcatura del mini 3 pro perché con la dji fly 1.10.4 aveva introdotto la limitazione dei 120 metri di altezza rispetto al punto di decollo si tratta di un requisito previsto soltanto per i droni con marcatura c0 dal regolamento 945 soltanto i droni c0 hanno la limitazione di 120 metri rispetto al punto di decollo gli altri droni come ad esempio il c1 hanno la possibilità di volare a 120 metri rispetto al punto più vicino della superficie non sono bloccati rispetto al punto di decollo dji poi con l'aggiornamento della dji fly ha tolto questa limitazione ma probabilmente la introdurrà con il drone c0 e anche quando farà la retromarcatura significa appunto come vediamo in questa immagine che il drone c0 sarà limitato rispetto all'h che è il punto di decollo mentre un drone non c0 potrà continuare a sorvolare la cresta di questa montagna restando a 120 metri rispetto al punto più vicino della superficie e a questo punto vediamo che ci sono diverse possibilità a seconda del fatto che venga modificato o meno l'articolo 20 nella dicitura mtom ad esempio se usiamo un drone come il mini 2 se anche nella versione non marcata c0 quindi se non aderiamo ad un'eventuale retromarcatura del mini 2 se noi possiamo comunque utilizzarlo anche nel 2024 come oggi perché è l'unico che ha l'Mtom dichiarato e quindi se non sarà marcato c0 non avrà la limitazione di 120 metri rispetto al punto di decollo dovrà essere condotto dal pilota rispetto al punto più vicino della superficie via firmware non sarà bloccato rispetto al punto di decollo invece il drone c0 sarà limitato a 120 metri e allora il mini 3 pro di oggi che non ha la marcatura c0 abbiamo visto se sarà retromarcato se aderiremo alla procedura di retromarcatura verrà bloccato a 120 metri rispetto al punto di decollo se invece decideremo di non aderire alla retromarcatura bisognerà vedere se sarà modificato l'articolo 20 nella dicitura mtom e qua si apre un nuovo capitolo perché questo problema non riguarda soltanto i droni sotto 250 grammi ma riguarda anche i droni sotto i 25 kg in generale se la modifica dell'articolo 20 sarà effettuata nella dicitura mtom potremmo usare il mini 3 mini 1 mini 2 senza la limitazione di 120 metri rispetto al punto di decollo se invece non sarà modificato l'articolo 20 letteralmente stando al testo del regolamento i droni sotto i 250 grammi ma anche sotto i 25 kg non finiranno in a3 non potranno proprio operare in open category finiranno in specific ovvero con pdra o sora neppure nei scenari standard perché nei scenari standard ci vuole un drone c5 e c6 in quelli europei quindi si potranno utilizzare soltanto facendo pdra e quindi chiedendo l'autorizzazione con modelli di rischio predeterminati che sono simili ai scenari standard oppure facendo l'analisi dei rischi sora e bisogna avere autorizzazione della autorità aeronautica nazionale ovvero in italia da enac e questo è lo scenario peggiore se andiamo a leggere il testo del regolamento 947 che fa fede ovvero l'articolo 20 che cosa dice l'articolo 20 dice che tutti i droni che non hanno la marcatura di classe ovvero non sono conformi al regolamento 945 e che non sono costruiti da privati possono continuare ad essere utilizzati alle seguenti condizioni se immessi prima del primo gennaio 2024 quali sono queste condizioni nella sottocategoria a 1 se ha una massa massima al decollo inferiore a 250 grammi massa massima al decollo m tom oppure in a3 però sempre se ha una massima massa massima al decollo inferiore a 25 kg sempre m tom se l m tom non viene dichiarato non può andare né da una parte né dall'altra questa l'interpretazione letterale del regolamento estremamente fiscale ma potrebbe essere in interpretazione ad esempio dell'assicurazione che potrebbe rivalersi sull'assicurato in caso di risarcimento danni a terzi se viene utilizzato un drone non compliant con questa direttiva c'è da dire però che easa vuole evitare questa questa eventualità cioè di escludere i droni senza m tom dichiarato tanto è vero che recentemente ancora l'ingegnere natale di rubo di asa mi ha spiegato che l'intenzione di asa appunto quella di non considerare l'm tom ma il peso al decollo quindi l'operatore può pesare il drone usare il peso al decollo se sta sotto i 250 grammi potrà utilizzarlo come ic0 però senza la limitazione firmware dei 120 metri rispetto al punto di decollo perché non avendo la marcatura il produttore non avrà inserito questa limitazione come ad esempio sul mini 2 quindi in linea teorica la volontà di easa la volontà dei regolatori è quella di far continuare utilizzare i droni sotto i 250 grammi con le regole di oggi indipendentemente che abbiano o meno l'm tom dichiarato però se non verrà cambiato l'articolo 20 nella dicitura m tom resta il problema dell'interpretazione letterale del regolamento che potranno fare l'assicurazione le assicurazioni in caso di incidenti magari le autorità nazionali chiuderanno un occhio però l'assicurazione sicuramente a questi aspetti guarderà bene e allora come si risolve al 100% questa situazione attualmente abbiamo la certezza di risolvere questa situazione impiegando o il mini 2se oppure un drone con marcatura di classe quindi chi vuole rischiare può aspettare e non aderire ad una retromarcatura del mini 3 pro quando dji la aprirà e aspettare di verificare se il regolamento easa sarà modificato nell'articolo 20 se sarà modificato potrà continuare a utilizzare il suo mini 3 pro non c0 con le limitazione di 120 metri rispetto al punto di decollo se invece easa non riuscirà a modificare il regolamento chi non avrà retromarcato il mini 3 pro e così come altri droni e rischierà questa contestazione nel caso di incidente nell'ambito dell'uso open category e questo è tutto quindi mi dispiace di aver disilluso chi ha questa notizia ha pensato che il suo mini 3 pro fosse già c0 in realtà non è così non è c0 sarà c0 se aderirà alla procedura di retromarcatura e aggiornerà il firmware con la limitazione dei 120 metri rispetto al punto di decollo comunque anche in ambito europeo un gran caos purtroppo pensavamo che le regole fossero più definite invece abbiamo visto che tutto il mondo è paese bene fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti vi ringrazio per l'attenzione iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto per darmi un supporto e iscrivetevi anche al canale telegram troverete il link in descrizione ciao a tutti e alla prossima con quadricottero news